Ragazzi e ragazze, ormai dovremmo essere arrivati alla fine di The Evil Within 2, credo, proviamo ad andare avanti, vediamo un po', ma a quanto pare il mare è stata, insomma, il suo istinto materno ha preso il sopravvento e da quanto è forte, ha addirittura una sua forma, questo istinto materno. Non lo so se quella metamorfosi che ha avuto dipende proprio da questo, ci può stare, non si sa, può essere, vediamo un po'. E che succede ora? Deve essere lì, non posso fermarmi ora. Ah no, capitolo 16? Nel limbo, ok. Allora non sono 15 i capitoli, 16, sono 16, credo, ce ne sarà un altro? Comunque sì, insomma, in pratica questa sua, anzi questo suo istinto materno ha preso questa forma, almeno credo. Questa voce di chi può essere? Ah, sento. Dovremmo riuscire a riparare lì prima. Hanno abbassato la guardia. Union funziona così bene che il loro controllo si è allentato. Ora o mai più. Dovremmo riuscire a riparare lì prima che si accorgano di noi. Una volta fuori, saremo impessibili. Sei sicuro di volerlo fare, Diodor? Uno nella tua posizione. Se venissi scoperto... Ho preso la mia decisione, Kidman. Non posso chersare a riunare mentre usano questa povera bambina per i loro scopi. Quel figlio di puttana sapeva che cosa faceva fin dall'inizio. Schifoso traditore. Anche se in realtà non l'avevo traditi. Dato che erano le sue intenzioni, come ha detto Sebastian. Ma traditore ugualmente. E adesso... Ok, da questa parte. Esmeralda è a Junio, in attesa di servizioni. Andiamo, Mayra. È ora. Sei sicuro di ciò che fai, Mayra? Quando dilimiterai il nucleo, sarai... Cosa? Lo so, ma se non lo faccio, troveranno lì e la riporteranno qui dentro. Non lascerò che succeda. Promettetemi soltanto che riporterete i ligni a Sebastian. Te lo prometto, Mayra. Allora... Addio. Mayra voleva diventare il nucleo. Perché? Oddio, dai, no. No, no, no. Speriamo di poter portare via sia lei che Lily. Oddio. Oddio. Saranno degli sproveduti, ma sono troppo pensiosi per me. Quando li controllerò, quando controllerò lo stem, svilupperanno il loro pieno potenziale. Ora, dall'anni. Dovrai passare sul mio cadavere. Se è questo che vuoi. Ecco quando... Questo posto ha iniziato ad andare in pezzi. Già. Oh! Wow! Ok, questo è veramente pazzesco. Un po' come dire... L'ultima spiaggia. Giusto? Wow! Il gatto dorme. E' Tatiana? Ok, andiamo da lei un attimino. Giusto per vedere cosa succede. Si rilassi, detective. Come posso assisterla? Ok. Vediamo un po'. Temo che questa sia l'ultima volta che potrò aiutarla. Sento che la fine si avvicina. Ci sei sempre stata per me. Entrambe le volte. Forse sono con lei da molto più tempo. Che vuoi dire? Chi sei? Sono chi sono sempre stata. Chi sarò sempre. Sono con lei a cui si rivolge quando le serve forza. E ora ha bisogno di me più che mai. E quando tutto sarà finito? E quando sarà tutto finito? Non avrà più bisogno di me. Perché non servirà più lottare? O perché sarò morto? La risposta vale per ambo i casi. E ora... Si prepari. Ha ragione. Posso farmi le ultime? Ok. Ok, ok. Ho afferrato il concetto. Però... Quella madre... Insomma, io la chiamo madre perché mi ricorda troppo... Quel personaggio del film. Anche se questa è meno spaventosa. Ma... Ah no! Il salvataggio. Che sbadata. Mamma mia, come sono sbadata. Ok. Ma che facciamo da qui perché... Perché non sono sicura se sto registrando. Certe volte mi fa vedere il segno... Della registrazione e certe volte no. Come appunto è accaduto l'ultima volta che ho... Che ho diciamo... Affrontato... Affrontato... La fantasmina. Ok. Dai, stiamo... Per salire lassù. Ok. Sempre dritto. E il cane abbaia. Ok. Corrimi, nasconditi. Ti troverò. Promesso. Cosa credi di fare, Mayra? Proteggo mia figlia. Povera sciocca. Il potere che hai in lei. Non ti rendi conto. No. Tu non ti rendi conto di cosa farei per proteggerla. Oh! Dannazione, Mayra! Non mi sfuggirai! Ti troverò! Ce l'hai fatta, Mayra. L'hai protetta. Ma ora la stai mettendo in pericolo. Eh già. Mamma mia, speriamo davvero di poterle salvare entrambe. Mamma mia. Che posso dire? Sono molto... Oh, eccola. Ci siamo. Mayra. Sei tu. Sebastia. Perché mi stai attaccando, Mayra? Tu... Non puoi capire. E questa è la nostra nuova casa. Lily sarà al sicuro. Felice. Libera dalla paura. Libera dal dolore. No, Mayra. Questo non è reale. Il dolore fa parte della vita. E anche l'amore. Se resta qui dentro, non vivrà libera dalla paura. Perché non vivrà veramente la vita. Tu non capisci le cose che le hanno fatto. Io posso proteggerla. No. Ti prego. Lascia che la porti via. Facciamolo insieme. Saremmo una famiglia. Ascolta. Nessuno potrà portarla via da me. Mia... Viena! No. Ti prego, Mayra. C'è ancora tempo. Andiamoci. Non lascerò mai Lily qui. Ti prego. Chiunque ci bravi... deve morire! Non costringermi a farlo! Non, non, non. Sì. Grazie a tutti. No! Oh mio Dio, no! È orribile! Oddio! Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, no! No, no, dai, io non ho parole, no! Non voglio farlo! Oh mio Dio... Oh mio Dio, no, dai, è terribile! Questi, cosa diavolo sono? Diavolo! Oh mio Dio... Oh mio Dio... Ma che... No, diamine! Ok, ok... Se prendesse anche questo maledetto... Ok... Sì, come faccio a prendere da là dietro? Ok, no, non posso passare di qui... Non riesco a prendere la mira... Accidenti... Oh signore... E ora che cosa? No, ok, devo fare qualcosa... No, ok, devo fare qualcosa... Che devo fare? Ok... Ok, ok... Accidenti... Accidenti... No, no... Maledizione... Ma è la maledizione... Ma è la maledizione... No... Ok... Oh... E queste che... Andiamo... Eh... Era troppo facile sconfiggere... Tio, d'ora... Accidenti... Valdizione... È difficile mirare... Ma che... Ah, no, no, no... Ok, pensavo ci fossero quei maledetti ragni... Dai... Avanti... Oh... Oh... Ah, ecco... Ora ci sono quei ragni... Ehi... Piano... Se questi ragniacci non stessero qui a rompere... Sempre... Che diavolo faccio adesso? Ok... La testa... Deve essere... L'ultimo... Andiamene... No, no, no... È terribile... No... 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 Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì.